Buongiorno e buon lunedì. Sono uscita, avevo bisogno di camminare, ho camminato un bel po' devo dire la verità e al ritorno da lontano c'era un cane al guinzaglio con i suoi padroni che vedendo che io arrivavo si è seduto e mi guardava. E io da lontano gli sorridevo, un bastardino. E a un certo punto il padrone va per tirarlo e invece rimane lì e la moglie deve essere che gli ha detto qualcosa insomma mi ha aspettato, amore. Io mi sono avvicinata, la signora mi fa, l'aspettavo, dico sì ma infatti è da lontano che mi guarda. Insomma si è avvicinato, mi ha appoggiato la testa sulle gambe e si è fatto carezzare. A un certo punto gli ho detto vuoi venire a casa con me? Tanto il mio patatino in questo momento non c'è, prendo tè per un po'. E il padrone mi dice provi a prendere il guinzaglio, veda se viene con lei. Insomma me lo sono preso e questo è venuto con me sereno. A un certo punto poi gliel'ho portato indietro e la padrona fa ma tu pensa ma non è possibile, ma sei un disgraziato, ma che tradimento. Insomma io li amo, ma li amo. Cioè io parlo con loro meglio che con gli umani, credetemi. E la tenerezza di questo cane che si è affidato e fidato di me è incredibile. Impariamo. Buon lunedì. Grazie.